Epilessia, sclerosi multipla, Parkinson, Alzheimer, Ictus. Dal 1976 Neuromed è il punto di riferimento a livello nazionale per tutte le malattie del sistema nervoso centrale e periferico. Diagnosi, cura, ricerca. Neuromed è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che coniuga l'attività clinica con la ricerca. È un centro di altissima specializzazione anche per cefalee, ipertensione arteriosa, malattie cerebrovascolari, centro terapia del dolore e per tutte le patologie afferenti alla neurochirurgia, neurologia, chirurgia vascolare, neuroriabilitazione. Una struttura moderna e funzionale, apparecchiature di ultimissima generazione, personale medico, paramedico e amministrativo, in grado di accogliere i pazienti e i loro familiari con serietà, competenza e umanità. Perché a Neuromed il paziente non è un numero, è una persona che soffre, che cerca comprensione, conforto e soluzione ai propri problemi. Tutti gli esami clinici, le visite specialistiche, gli interventi e le degenze sono in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Neuromed è quindi equiparato in tutto e per tutto alle strutture sanitarie pubbliche.